Sono sempre stato un grande appassionato di fumetti fin da bambino e poi da grande ho continuato ad esserlo e già vi ho parlato dell'ultimo fumetto che hanno fatto che prosegue la saga di Corto Maltese di Ugo Pratt che la prosegue abbastanza malamente che non mi ha convinto per niente perché non si può ripetere un artista non si può proseguire sulla sua scia e cercare di fare a modo suo no ogni artista è fatto a modo suo sì ci sono certi che sono bravissimi giapponesi così che riescono a riprodurre in maniera perfetta un artista con i cartoni animati con i fumetti eccetera però lo spirito è un altro c'è subito stato qualche genio che mi ha criticato ha detto no non bisogna parlare di Ugo Pratt perché era un massone certo era un massone e con questo forse che i suoi fumetti forse che le avventure straordinarie che lui è capace di raccontare e di disegnare con una maestria straordinaria perdono di valore perché lui era massone ma cosa facciamo allora non ascoltiamo Mozart perché era massone ma scherziamo se l'arte è arte arte bellezza e la bellezza è toccare dio anche se viene da un massone o anche lo stesso sembra che collodi fosse massone allora non leggiamo Pinocchio perché collodi sembra che fosse massone ma andate a quel paese insomma ma queste queste chiusure queste queste rigidità ridicole da eretici catari veramente fanno più del male che del bene Ugo Pratt è stato un grandissimo un grandissimo fumettista ecco qui la sua autobiografia che ho letto con enorme piacere dove riconosce di essere un massone essere stato un massone fino al quarto grado cioè un grado molto basso e di essere affascinato dall'alchimia dall'esoterismo e tante di queste cose va bene va bene pazienza se questo serve a raccontare delle bellissime favole e non dimentichiamo che nelle favole c'è la magia ci sono i cattivi ci sono la magia e l'esoterismo che cos'è è la magia dei grandi quelli che si credono di quando non è commercio con i demoni che effettivamente a un certo grado della massoneria è commercio con i demoni ma in fin dei conti se è raccontato in un fumetto e non serve per iniziare a queste vestialità ma è una forma di magia è un pochino come quelli che criticano Harry Potter perché dicono che è un'iniziazione la magia non è un'iniziazione la magia sono dei bellissimi romanzi che affascinano in maniera straordinaria i giovani fanno leggere i giovani che non sono più capaci di leggere e se leggono Harry Potter benedetto Dio che leggono Harry Potter da quello poi passeranno ad altro il fascino ma voi vi ricordate quando eravate bambini non solamente cappuccetto rosso barba blu ma quante storie quante favole i fratelli Grimm e non solo sono piene di magia i bambini vivono nella magia abbiamo bisogno della magia la nostra religione Gesù Cristo che cos'è ma è la magia vera è la vera magia perché effettivamente un uomo che muore che poi risorge che cos'è se non diciamo così tra virgolette evidentemente con è un uso un po' improprio della parola ma è una forma di magia e che affascina in maniera straordinaria i bambini che hanno molta più fede che noi adulti allora smettiamo di essere così rigidi e catari e gustiamo la bellezza che ci offre il mondo e anche gli artisti per quello che è per quello che è a me piace molto Ugo Prat mi piace cortomaltese ho letto con enorme piacere la sua autobiografia è una in realtà è una lunghissima intervista 432 pagine appena uscite il desiderio di essere inutile le tre vicibite di Ugo Prat nell'intervista di Dominique Petitfo stupendo una una biografia meravigliosa in cui certo si vede si vedono le debolezze dell'uomo un uomo che è nato nel 1927 cresciuto a Venezia da mamma ebrea da padre cristiano ma in realtà tutte e due atei e cresce durante il tempo del fascismo aderisce giustamente come a quel tempo tutti aderivano al fascismo balilla quello che sia ecco e poi il padre va in etiopia ma in etiopia a fare fortuna e poi si porta anche la la famiglia e questo figlio cresce in questo clima anche di libertinaggio poi lì in etiopia il padre che tradisce la madre la madre che tradisce il padre lui che ha tutte le sue prime esperienze fin da giovanissimo di fatti effettivamente Ugo Prat ha avuto una vita moralmente insomma decisamente discutibile sei figli quelli accertati da cinque donne diverse insomma io non sto qui a fare la morale tanto più a un grande artista che poi è morto nel 1995 anche abbastanza giovane ma quello che mi interessa è da dove viene quella vena artistica che ha prodotto questa capacità di raccontare di affascinare di affabulare milioni e milioni di persone in tutto il mondo e fra questi milioni ci sono anch'io e leggendo la sua autografia ho scoperto questo è una cosa veramente bella tra l'altro questa edizione che è la seconda edizione della prima è uscita diversi anni fa questa edita da Kong che è l'azienda diciamo così proprietaria di tutte e di tutto il patrimonio artistico di Ugo Prat che pubblica questo libro abbastanza fin troppo costosetto devo dire 38 euro e 50 ma un libro bellissimo 430 pagine dove lui racconta se stesso mette un sacco di foto dei tempi in cui era ragazzino della sua vita e moltissime illustrazioni perché lui illustra anche la sua vita e sono veramente pregevoli io ho trovato particolarmente belle le illustrazioni in acquerello che lui fa e quale potete vedere sono illustrazioni fantastiche lui è veramente un artista dell'acquerello non solamente del fumetto voglio dirvi due parole lui riconosce apertamente di essere un massone di aver iniziato altri la massoneria vi di seguito e che è stato sempre un grande affascinato dalla dall'esoterismo ma questo vedete a me non fa paura il esoterismo basta non finirci dentro quando è raccontato è un pochino quando troviamo su tex e le avventure di mefisto vabbè è una bella avventura pazienza finita lì non è che noi dobbiamo credere non è che noi diventiamo dei satanisti o degli esoteristi perché leggiamo tex o cortomaltese smettete di essere catari divertiamoci prendiamo la vita con un po più di bellezza e di leggerezza questo volume è pieno di bellissime illustrazioni che lui ha fatto proprio per descrivere la sua vita qui non so che rimpatri dei profughi quando è tornato dall'etiopia o questi bellissimi acquerelli lui è veramente un genio dell'acquerello riesce a con pochi tratti e poche macchie di colore a esprimere una delle forme delle persone degli atteggiamenti veramente stupendi ecco qui la gioventù etiopica del littorio il tempo del fascismo quando lui era lì verso i 13 14 anni e le sue amichette i soldati di tutti i vari tutta quella quella fantasmagoria di personaggi e di carnevale diciamo così fascista che in fin dei conti è affascinante fa e fa ridere e fa anche e fa anche piacere di andare a guardare con queste immagini così belle una cosa che mi colpisce di di ugo pratt è il fatto che lui sappia dire qualche cosa attraverso questa forma questa che viene chiamata la nona arte il fumetto che in realtà è molto disprezzata soprattutto qui in italia devo dire in francia no in francia hanno capito insieme anche umberto eco anche lui massone anche lui gnostico di seguito ma un grande artista anche lui hanno capito che il fumetto è una forma di arte allora ricordatevi che quando nasce la fotografia c'è subito qualche purista qualche stolto che dice la fotografia è una cosa brutta no i ritratti si fanno col pennello sarà la morte della pittura la morte dell'arte vi di seguito non capivano niente questi questi storditi la fotografia è stata una nuova forma di arte che ha aperto nuovi orizzonti che non ha ucciso la pittura per niente alcuni alcuni pittori che facevano si dedicavano semplicemente al ritratto forse hanno perso il lavoro hanno dovuto cambiare il loro lavoro in qualche cosa altro allora lo stesso il fumetto è letteratura con immagini c'è la dimensione della la scrittura del racconto una volta addirittura si usava il passato il passato remoto di sedico anche nelle didascalie dei fumetti oggi non è più così è cambiato il modo di narrare ma è cambiato anche nel campo del cinema è cambiato anche nella letteratura ma la cosa bella che accosta la parola e l'immagine l'immagine spesso oggi ma sempre vale più che mille parole e nel caso di ugo pratt stiamo parlando di uno che le immagini sa produrle con una maestria strepitosa padroneggia il pennello padroneggia le forme padroneggia il corpo umano e i colori con l'acquerello in modo veramente eccelso e ha un fascino veramente che per quanto meno in me e in milioni di altre persone che ci prende una cosa che volevo dirvi è che lui chiama questo libro il desiderio di essere inutile su in un primo momento sono stato un po urtato da questo titolo guardate che meraviglia questo 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 acquerello dove disegna la casa camuzzi a montagnola con corto maltese lì abbraccia abbraccio concerte mamma mia questi acquerelli forse sarà perché io sono un ho voluto essere un pittore ho voluto essere un artista l'ho fatto l'ho fatto anche a livello professionale per un po di tempo poi dopo mi sono sposato e non ho più potuto continuare perché carmina non dant panem l'arte solo in rari casi da da mangiare guardate che robe veramente delle illustrazioni e dei disegni meravigliosi in un primo momento quindi il titolo mi ha innervosito poi dopo verso la fine del libro ho capito perché ha chiamato così la sua autobiografia dice perché oggi la ed era così al suo tempo ed è così anche adesso l'arte la narrativa la letteratura se ne impossessano gli accademici universitari i professori delle scuole dicono è solo un certo tipo di letteratura che va bene quella d'evasione non va bene quella spazzatura per i bambini per il popolo bue e invece lui dimostra che anche la letteratura d'evasione anche questa forma di arte che è narrativa più immagini che è il cinema che è il fumetto può essere veramente arte grande arte che trasmette bellissimi sentimenti bellissimi valori se un artista ha valori e sentimenti ma comunque trasmette dei valori di forme colori e narrazione e avventura che ci aiutano essere un po' più bambini e meno adulti non dimenticate che quelli che pretendono di essere adulti ricordate il cattolico adulto chi era ve lo ricordate bene è una cosa negativa preferisco essere un cattolico bambino e il bambino lo affascini con una bella favola con un bel fumetto e lasciamoci prendere lasciamoci riportare alla nostra infanzia quando eravamo così presi da queste cose e lasciamo un po' perdere anche tutte quelle questioni teologiche di chiesa e via di seguito che sì vabbè sono tutte importanti ma la vita è ben più che quella roba là e quindi non avveleniamoci il sangue con quella roba quando possiamo goderci un pochino la vita con un bel fumetto un bel romanzo ecco ecco adesso perché lui dice il desiderio di essere inutile che sul momento al momento iniziale mi ha urtato perché dice la letteratura la narrativa quella che spacciano diciamo così nelle università nelle scuole i grandi professori deve essere sempre una narrativa utile elevata che spiega grandi cose grande questione lui dice ma no lasciatemi essere inutile cioè fare la mia attività di fumettista che racconta delle cose che sono inutili ma quella inutilità in realtà che rende bella piacevole affascinante e anche un po' infantile nel senso più positivo del termine la vita e io credo che sia veramente una cosa buona che abbia ragione basta con queste cose ci dobbiamo solo impegnare nella battaglia della fede nella battaglia della retta fede tutto vero ma divertitevi un pochino altrimenti diventate dei farisei noiosi e barbosi e nessuno è affascinato da un barboso perché oggi i giovani sono affascinati dalla dalla liturgia antica ma perché non è barbosa è affascinante è piena è piena di magia proprio quella magia che c'è anche in cortomaltese e nei fumetti di ugo pratt leggendo la sua autobiografia ho scoperto il perché di tante delle avventure di tanti dei riferimenti a venezia all'esoterismo all'ebraismo lui era ebreo per parte di madre anche se atrio nella vita e dei riferimenti a tutti i viaggi che ha fatto ha viaggiato tutta la vita ha vissuto 12 anni in argentina non so quanti anni in francia in svizzera in etiopia a venezia è andato in nord europa ha viaggiato in continuazione è stato spesso in sud america ancora dopo il suo abbandono dell'argentina in brasilia dove ha lasciato anche un figlio lasciato lì e scopriremo anche un ugo pratt che riconosce anche le sue debolezze e via di seguito si difende un pochino eh poverino come tutti facciamo d'altra parte ma si capisce da dove viene questo suo fervore culturale e anche questo suo fascino per il mondo che era intorno a lui che lui racconta con grandissima maestria una cosa anche che mi ha colpito che mi piace molto lui che ha vissuto la guerra che ha militato è stato preso dagli inglesi è stato preso dagli neozelandesi ha indossato la divisa proprio dell'esercito mi sembra scozzese una roba di questo genere con il nellino e con i balilla e con i fascisti un po di tutto la cosa bella che lui dice che la guerra è veramente sempre uno sbaglio fare la guerra non rendere uomini non rende uomini aggiunge anzi difficoltà a diventare tali sì purtroppo lo vediamo oggi che la guerra è ricercata perseguita in tante maniere per fare tanti quattrini lui ha capito e lui in fin dei conti è una vittima della guerra perché se ha avuto una vita anche moralmente così sbandata è stato anche a causa della guerra ecco e poi un'ultima cosa che voglio dirvi poi andate a leggere se volete la sua questo libro il desiderio di essere inutile è quello dice che marx e marcuse mi emozionavano meno di quel vecchio reazionario di kipling era un colonialista vi disse cattivo marx e marcuse questi che sembravano i profeti della libertà tutte queste bubole che hanno raccontato per costruire l'inferno sulla terra che il comunismo lui dice mi emozionavano molto meno che quel vecchio reazionario di kipling mi sono quindi visto condannato da tutti questi pseudo intellettuali che si impegnavano nelle cose utili lui si è invece dedicato a quelle inutili che sono in fin dei conti quelle più belle ciao 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 ciao